Mi chiamo Federica, ho 33 anni e faccio la ricercatrice al San Raffaele. Il mio percorso nel mondo della ricerca è iniziato con un dottorato in chimica computazionale in Belgio. Grazie a questa esperienza sono cresciuta molto, ma è qui in Italia che ho oggi la possibilità di portare avanti il mio progetto. La mia ricerca è incentrata sull'identificazione di nuovi farmaci attraverso delle simulazioni al computer per poi passare alla fase sperimentale. Ogni giorno ho l'opportunità di confrontarmi con persone di diverse competenze e questo apre alla collaborazione e al confronto perché si mettono in campo tecniche integrative e complementari verso un obiettivo comune, sconfiggere il cancro. La ricerca è per me farsi domande, guardare i limiti, affrontarli, superarli, trovarne di nuovi e andare avanti. È importante aiutare la ricerca perché credo che nel nostro piccolo tutti possiamo fare qualcosa di grande per il nostro futuro, per il progresso della medicina. Insieme possiamo creare nuovi percorsi per arrivare a sconfiggere il cancro.